Tomografia a coerenza ottica, è questo il nuovo esame nel campo dell'oculistica che potrà essere effettuato da oggi all'ospedale Spaziani di Frosinone. Il tutto grazie all'Angio OCT, uno strumento ultramoderno arrivato in ciocceria grazie alla sinergia tra ASL ed Unione Italiana Cechi. D'ora in avanti quindi molte indagini oculistiche potranno essere compiute con questo strumento che permette altissima precisione, risparmio di tempo ed una metodica non invasiva. E' la prima attrezzatura che viene comprata da una struttura pubblica nella nostra regione, questo dobbiamo ringraziare l'Unione Italiana Cechi che ci ha permesso di ottenere questo apparecchio che permetterà nei fatti la possibilità di intervenire per la diagnosi delle patologie retiniche in modo non invasivo sui cittadini. La tomografia a coerenza ottica computerizzata è un esame che permette di ottenere delle scansioni della cornea e della retina per la diagnosi di numerose patologie corneali e retiniche e nella diagnosi pre-operatoria e nel percorso post-operatorio della gran parte delle patologie oculari che necessitano di un intervento chirurgico. Il macchinario arrivato, grazie anche alla sinergia tra istituzioni, permetterà di colmare un ritardo strutturale nella diagnosi e nella cura per prevenire la cicità anche con screening di massa. Questo naturalmente consentirà anche di avere una migliore qualità del servizio sicuramente ma anche una minor fuga di pazienti verso strutture private che hanno già oggi in dotazione questa strumentazione che invece nelle strutture pubbliche ancora non c'è.